Simbolo della città di Vercelli, l'abbazia di Sant'Andrea rappresenta una tappa importante nella storia dell'arte, perché segna un momento cruciale della diffusione del gotico in Italia. Fu infatti tra i primi edifici nella nostra penisola ad adottare questo stile, e la sua realizzazione precede la Basilica di San Francesco ad Assisi, cantiere gotico per eccellenza. Realizzata in solo i nove anni, tra il 1219 e il 1227, fu edificata per volontà del cardinale Gualabicchieri, legato pontificio in Francia e in Inghilterra. Fu il cardinale a contribuire alla diffusione del gotico in Italia. Dall'esame della costruzione del complesso risulta evidente la fusione tra l'esperienza portata dalle maestranze provenienti dal Tralpe e quella dei maestri campionesi ed emiliani, il tutto nel rispetto dei canoni dell'architettura cistercense. Chiusa tra due alti campanili, la facciata è un esempio della fusione raggiunta tra il gotico internazionale ed il romano colombardo. L'interno si presenta sobrio e la decorazione affidata all'effetto policromo del rosso e del bianco, che sottolineano l'architettura. Da non perdere, il chiostro, splendido esempio di architettura cistercense, e la sala capitolare, considerata tra le più belle d'Italia.